Gian venga un po', si ho capito ma io non posso fare tutte le volte ognuno che ha bisogno di qualcosa mi chiama io devo sempre correre sempre correre e poi mi trattate anche male non è colpa mia se sei rotto l'armadio non l'ho rotto io l'ha rotto quell'altra e ho capito però stasera arriva a casa e mi dice hai rotto l'armadio hai rotto vedi quello che tocchi lo rompe ma questa ragione non si apre l'anta e non si apre l'anta c'ho l'anta sbilenca e c'ha anche l'anta sbilenca se fosse più alto ci arriva meno bene se lei fosse più furba non sarebbe in queste situazioni ecco perché oh è colpa mia anche questo qua mi dice che è colpa mia io non lo so io non dico che è colpa sua io dico che se lei rimaneva da sola io dico che si apre stante meglio uno due tre pronti l'anta è pronta è l'anta è pronta è anche pronti i vestiti eccoli lì perché si è davanti così forte ah hai visto che roba fa un po' vedere che bella ragione c'è di color anche eh carina con le frange proprio eh e questo con tutti i cuoricini beh uh c'è anche il pezzo di sotto oh che spettacolo che spettacolo e guardi qua guardi qua guardi cosa c'è qua questo lo sabina bene eh si uno davanti e uno dietro diventa milanista si 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 no no ma io questo qua devo provarlo eh voglio provare che bello io mi provo questo mi provo questo no questo però quello lì secondo me è questo 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 bello no ma c'è ancora l'etichetta guardi ma se mette ma se la fisica ha fatto ieri che ha fatto mi sa non me la fate mica vedere eh ma come fa ma come fanno mentre si stanno mi torno cioè ci si presenta una che è che qua già cioè io arrivo a casa mi trovo una vestita così dico ho sbagliato appartamento certo e capire poi come si mette ma guardi che roba si aspetta guardi che roba mi dia una mano a mettere eh si perché qui ci perdiamo le piume lui può perdere le piume ma lui il viso si ma sono anche allergiche queste cose da manco ma come fai a me lo capire e sta a fare qui come va messo e questo cosa copre non copre niente anche a me guarda che belli che sia guardi aspetti che facciamo eh potremmo andare a fare lo spettacolo di varietà sì lo spettacolo di varietà ma lui non c'è mai oh oh bella figura complimenti bella figura